L'hanno preso per una pubblicità della team Lo spot era andato bene perché poi Era uscito con gli europei Mi sembra il 2004 Era recitato quindi c'era Naomi Campbell Dopo il primo episodio ho letto sul giornale Dico gli alpini contro Vittorio Che era il mio personaggio Come gli alpini contro Vittorio? Io facevo un momento che non vengo al mare Neanche se me lo chiede Naomi Campbell Faceva sto tormentone E quindi c'ero io che stavo in montagna Però una volta fungevo alla mucca Una volta me l'ha finito per cosa o altre attori E invece c'avevo st'amico mio che stava con tutte belle ragazze Al mare tra cui Naomi Campbell Io facevo no non vengo io sto meglio qua Poi attaccavo Invece stavo da solo una montagna Oppure con questi due contadinoni Quelli si sono lamentati che il mio personaggio Andava a dare un'idea negativa della valtellina Quindi hanno tagliato Hai incontrato Naomi? Non te l'hanno fatta vedere No perché stavo in montagna Quella stava al mare